Intro Ciao a tutti ragazzi, sono Anthony Drake e bentornati in un mio nuovo video Sono tornato, è passato all'incirca un mese da quando ho caricato l'ultimo video su YouTube Ma ho avuto dei problemi personali che non mi va di parlarne, quindi non ho avuto più voglia di fare video Ed eccomi qua, che sono tornato in questo nuovo video in cui vi spiegherò nuove cose sul canale e sui progetti che ci riserva il futuro Innanzitutto come avete notato ho cambiato il nome del canale, ho cambiato avatar, logo, ho cambiato un po' tutto Perché ho intenzione di cambiare molto su questo canale Innanzitutto adesso mi chiamo Anthony Drake Gamer, che è più facile, anche perché io mi chiamo Anthony Drake E quindi ho pensato che è più giusto chiamare così il canale Vi avviso subito che il prossimo video che vedrete sul canale sarà appunto il continuo, la seconda parte di Amnesia Della custom map che stavo facendo A chi for... non mi ricordo come manco cazzo si chiamava più, vabbè Quella lì E niente Poi continuerà sempre la custom map di Minecraft Finché non la finiamo E poi non so se continuerà più Minecraft o abbandonarlo Mentre per quanto riguarda Green Fandango, la serie che stavo facendo sul canale purtroppo non continuerà più Perché a nessuno interessa quella serie Quindi voglio abbandonarla Dato che mi occupa tempo inutile, dato che non viene seguita Quindi penso a fare altro Anche la serie giochi della domenica è stata annullata insieme a Green Fandango Un'altra cosa, i miei video non sanno più di un video al giorno Ma li farò ogni quanto mi pare Cioè potrete a volte avere anche un video alla settimana O anche due a settimana e così via Dipende come mi gira, metterò un video su YouTube Un'altra cosa importante è che dopo la custom map di Amnesia Inizierò Amnesia 2 E subito dopo averlo completato inizierò Soma Il gioco che da tempo dicevo di portarlo sul canale Per adesso voglio concentrarmi sui giochi horror Magari poi farò anche altri giochi Ma per ora ho intenzione di fare solo gli horror Sul canale e Minecraft Poi come novità voglio portarvi qualcosa di nuovo Cioè recensioni di album musicali o di canzoni Quindi voglio un po' variare Farò anche qualche video sul cinema Ma per adesso mi dedicherò di più sulla musica E quindi niente, aspettatevi domani o dopodomani La seconda parte di Amnesia E niente, ci vediamo al prossimo mio video Ciao a tutti